Sì, è aumentato circa il 15% da 0,36% A cosa è dovuto questo aumento? C'è stato un fortissimo aumento già dal 2007 nei costi di produzione, circa un 40% per quanto riguarda l'alimentazione del bestiame e comunque mediamente sul totale della produzione circa il 36%. Quindi vendendolo a 42 centesimi il litro di latte, a voi quanto margine vi rimane di guadagno? È aumentato il prezzo come dicevo il 15% ma del 40% i costi di produzione e quindi da questi due numeri si capisce come oggi si fa fatica ad arrivare a un pareggio nel bilancio. Secondo lei come si potrebbe diminuire il prezzo del litro di latte alla vendita al dettaglio? Credo che finché i costi di produzione siano così alti o in aumento sia obiettivamente difficile diminuire il prezzo del latte.